abbiamo un drone abbiamo comprato un drone il drone mini gus x 125 un drone che cuoce tutte le cose che fa ed il motor ecco ora apriamo e vediamo come vola spero che le batterie siano per proteggere le cose non so tanto volarebbe faccio volare sei qua a 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